Siracusa, immigrazione clandestina, due scafisti beccati a bordo con 33 migranti arrestati per favoreggiamento. Nella mattinata di ieri, agente della squadra ombra hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due cittadini egiziani rispettivamente di 25 e 39 anni, gravemente indiziate dal delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due cittadini egiziani sono stati individuati quali scafisti dell'imbarcazione giunta il 19 agosto presso il porto del comune di Portopallo di Capopassero con a bordo 33 migranti di origine bengalese. Dopo le incombenze di rite, due stranieri sono stati portati presso la casa circondareale di Cavadonna.